gentili telespettatori buona giornata piano di emergenza del governo perché senza il gas russo cominciano i razionamenti ecco oggi la notizia che il 30 come c'è una nuova riduzione del gas in arrivo della russa del 33 per cento la russia dice c'è il problema lì c'è il problema là in realtà stanno vendendo il gas da altre parti nel mondo quando sostituiscono il fornitore europeo pian piano lo stanno sostituendo quando poi fino fino a che lo avranno sostituito completamente nelle prossime settimane e arriveremo all'inverno con zero gas in arrivo dalla russia beh ma l'italia le riserve no non le ha mai riempite le riserve sti sti ridicoli non hanno mai riempito le riserve la riserva lo dice il nome che se c'è un'emergenza c'è una riserva però adesso cosa fanno i giornali fiancheggiatori del governo non parlano più di riserve parlano di stoccaggio non sto cavolo ma di stoccaggio come dire non dite riserva perché la riserva in teoria deve essere sempre piena giusto invece non era completamente vuota la riserva vuota piano di emergenza lampioni riscaldamento in casa vediamo che cosa si sa su questo piano di emergenza razionamento della fornitura alle aziende alle imprese italiane quindi meno gas per le imprese italiane meno ore di illuminazione pubblica riscaldamenti ridotti di almeno due gradi queste alcune delle misure previste dall'italia in caso di stop totale del gas russo insomma se vladimir putin ci stacca il gas scattano i razionamenti e l'italia tra l'altro dovrà affidarsi ancora le centrali a carbone per la produzione di elettricità e poi abbiamo incredibilmente i 5 stelle che tramite il giuseppi continuano a dire no all'estrazione di gas beh si rimane senza parole ad ascoltare i grillini però dovremmo esserci ormai abituati ai grillini vabbè ormai il partito di conte di grillo è in sparizione sta per sparire speriamo che sparisca prima possibile a fare il punto sui tre livelli di allarme energia dell'italia e repubblica che spiega che siamo ancora la primo step ma cosa succede in caso di blocco della fornitura il piano di emergenza c'è anche se non è mai stato comunicato c'è e prevede che le sei centrali a carbone ancora in attività che dovevano chiudere tra tre anni aumentino la produzione che vadano a produrre al massimo nelle ultime settimane hanno raddoppiato gli standard produttivi degli ultimi anni e hanno coperto fino all'otto per cento del fabbisogno nazionale però parliamo dell'otto per cento è tra i primi a subire lo stop energetico in caso di impennata del livello di emergenza saranno le aziende energivore il piano prevede l'interruzione delle forniture per un periodo limitato ai cementifici le acciaierie le imprese dedicate alla produzione di ceramica al vetro si potrà inoltre mettere mano alle riserve che non ci sono ancora complete sul piano dei consumi si stringerà l'austerity allo stato attuale fino al 30 aprile 2023 le temperature negli uffici pubblici non potranno essere superiori 19 gradi d'inverno e sotto i 27 d'estate ma il governo è pronta a ritoccare i limiti fino a 2 gradi e a limitare il numero di ore di accensione allora a quelli che avevo l'ho già visto in un altro video allora ve lo spiego perché molti non ci non lo capiscono che cosa vuol dire allora le temperature negli uffici non potranno essere superiori a 19 gradi oggi quindi d'inverno non si può mettere il riscaldamento superiore a 19 gradi d'inverno sotto i 27 gradi cosa vuol dire vuol dire che non potete impostare il il climatizzatore al di sotto dei 27 gradi vi faccio vedere questo è impostato a 26 gradi vuol dire che non può allora vuol dire che voi a casa o negli uffici non potete mettere meno di 27 gradi cioè non potete mettere questo a 18 19 20 per far abbassare la temperatura la temperatura non può essere in estate inferiore ai 27 gradi perché qualcuno questa non l'ha capita scriveva in un video passato ma non sanno neanche questa è la spiegazione avete capito non si può mettere d'estate al di sotto dei 27 gradi vedete qui c'è detto 27 non può essere al di sotto dei 27 gradi non potete mettere 22 gradi d'estate fuori ce ne sono 35 voi non potete fare scendere la temperatura al di sotto dei 27 gradi dal punto di vista dell'illuminazione pubblica i lampioni spenti sulla rete stradale cittadina ed extraurbana e niente luce su monumenti ed edifici storici lampioni spenti quindi voi uscite e c'è il buio più totale illuminati solo dalla luna dalle stelle e qui diventa anche pericoloso per l'ordine pubblico perché se mi spegnete tutti i lampioni su strade urbane extraurbane e niente luce su monumenti ed edifici vuol dire che uscendo dopo le 5 le 6 è tutto buio sono accese solo le vetrine dei negozi ecco questo porta evidentemente a dei problemi di di ordine pubblico perché quando fuori è completamente buio capite che anche i criminali fanno festa e si va molto 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 spediti verso questi razionamenti e questo piano di emergenza come vi dicevo come al solito l'italia doveva già avere le riserve piene ma al momento dell'inizio di questa crisi internazionale le riserve stavano a zero solo solo dal 24 febbraio in poi hanno cominciato a ah beh dai adesso le cominciamo a riempire quindi le riserve che dovevano strategiche che dovevano essere già piene al 100 per cento erano completamente vuote completamente vuote e beh è come un po come il piano di emergenza o il piano pandemico che non c'era no il piano pandemico non c'era le riserve di gas erano vuote un'italia che possiamo descrivere realmente allo sbando realmente e completamente allo sbando che peccato era un bel e grande paese grazie a tutti e buon proseguimento di giornata grazie grazie grazie